Benvenuti ragazzi, siamo con il computer più potente ed è il 5.9. Per iniziare, ovviamente io ci ho già giocato come potete vedere, facciamo qualche notte. Ho pubblicato l'episodio gravi dove c'è filigrano, l'episodio 2 non lo vedete più. Anche questo episodio lo vedete senza filigrano, però le altre parti, tipo la seconda parte dell'episodio 1 lo vedo sul mio video. Allora, no, poi c'è cos'è? Così? Come puoi dire che c'è il sistema? Ah sì, aggiungiamo. Oh, ma perché? Cioè, mettiamo tutto al direzzo. Allora, sono 800 punti. Allora, prima cosa, poi il generetto. Io comandi i rapidi che posso tridere le porte ricondotte. No, ma perché? Si... No, ma perché è così. È vero? No, ma perché la vista di un cosiddetto este metto? No Foxy. Eh Foxy, non fai il mio nome di Foxy. Non parlo, mi devo concentrare. Ma lì la Foxy mi uccide. Che io gioco il giocchiore? Questo video potrebbe durare pochi minuti. E sapete benissimo il perché. Posso mettere questo qui? Non posso notare. Se non è morto. Sono troppo forte, tutto l'ho detto. Foxy, ferma. Tobi su. Tobi su. Tobi su. No. Cosa ho fatto? Non mi attacca Foxy, io l'ho detto. Non ho messo il pulsore sopra. Beh, lo facciamo solo. Lo facciamo solo, ragazzi. Io il pulsore sopra non ho messo. Ci ricordo. Cosa ho fatto? È. Ma cosa mi può Megare? È. 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 Giife. Svai focci Svai focci oh si è vero ok non sono tutti di instagram no all'interno ho cose che dicono che sono tipo forte che poi mi trovo con 200 tiz e basta ma perchè mi attacca senza che io metto il pulsante prova la scrittura poi è troppo fantastica sono morto io sto registrando un video speciale Halloween appunto non c'è se non fa no lo faccio per gli spi io ho fatto una musica ti dispiace si no no ma per quello che vuole è un video è troppo forte non c'è cosa è fredde riuscirò a completare una notte ah questi me l'aveva messo no non mi metto no allora ragazzi non ho guardato mi sto concentrando comunque per questo nel mondo Foxy te vero te si formando ah cerchiamo il prossimo a Grazie mille, vediamo cosa stava facendo. Non c'è Foxy. Ehm, è buono. Sono le 3 di notte, ma perché passa così dentro il tempo? Non ha fatto il verso. Almeno così io ho sentito che mi potevo attaccare se non togliere dal camera. No, non mi guardare. Adesso non mi guardare. No, non mi guardare. È stronti. Oh, come. No, sempre così freddi. Ci provo un'ultima volta, dopo di che basta. No. 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 No, no, no. Non è solo un nuovo challenger. Perché? Dai. Dopodiché, non rendo. No. 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 Non ho vinto almeno una lotta perché sono scarso in questo gioco. e spero che possa spacciare la sua assistente saluta ciao e noi ci vediamo in un prossimo video ciao